I problemi per l'uomo sono struttura di vita. Si devono risolvere solo al momento dell'effettiva necessità. E solo quelli inevitabilmente da risolvere. Guai a risolverli fuori tempo e in quantità al momento non occorrente. I'm going to sing to hear words of good cheer from everywhere filling the air. Oh, how they come, raise in the sun. For hill and dale, tell in the town. Healy, healy, why people sing songs of good cheer. Christmas is here. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. One of the set, come with an end. They turn the tongue to everyone. Merry, merry, merry Christmas. Merry, merryahu. Grazie.